Un errore c'è stato, probabilmente in buona fede, ma la forma non cambia la sostanza. La situazione delle scuole di Diamante rimane abbastanza critica, ma è giusto fare ordine. La nota dell'ex consigliere Francesco Bartalotta, che criticava l'amministrazione comunale per la revoca del finanziamento, finalizzato al completamento dell'istituto comprensivo, con tanto di foto pubblicata su Facebook, ha rischiato di trarre in inganno qualche collega e in alcuni casi c'è riuscito. Sì, perché Bartalotta si riferiva alla scuola di Via Quasimodo, la ex scuola media, mentre il finanziamento riavvocato è quello per il plesso di Via Mendola. Nello specifico, l'istituto comprensivo al quale si fa riferimento è formato dall'edificio di Diamante e da un plesso situato nel comune di Buonvicino. La perdita effettiva per Diamante sarebbe pertanto non di 350.000 euro, ma di poco meno di 190.000. C'è di vero che l'amministrazione comunale non è stata solerte, come al solito, nel dare i dovuti chiarimenti, così come poco dettagliata è stata la nota diramata dalla Regione. A fugare i dubbi ci ha pensato una nota stampa diramata stamattina dal comune di Rossano. E sì, perché anche il comune Ionico risulta tra quelli che ha perso i finanziamenti. Qui però l'aggiunta Antoniotti ha chiarito che i fondi PON erogati dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca non sono gestiti dall'amministrazione comunale, ma dalle singole istituzioni scolastiche che curano direttamente la progettazione e la realizzazione dell'opera. Ecco spiegato il silenzio dell'amministrazione comunale di Diamante, che evidentemente ha voluto evitare per garbo istituzionale di evidenziare le responsabilità dei dirigenti scolastici. Ma come detto, la forma non cambia la sostanza. Il tema dell'edilizia scolastica sicuramente continuerà ad alimentare il dibattito politico.